Rieccoci bentornati giovani panna one in questo video di life is strange andiamo avanti con il filmato dove eravamo rimasti due secondi fa per quanto riguarda me e non so quanto tempo per quanto riguarda voi in ogni caso siamo arrivati al vecchio fionile e ora ragazzi ho paura io spero che non succeda qualcosa di sano in sto gioco perché fino adesso tutto tranquillo tutto ragazzi io giuro che accendo la luce io accendo la luce no no io accendo la luce no no io accendo la luce qualcuno è appena stato qui cos'è sta roba che sta sotto il suono chi c'è lì dentro ho visto muoversi qualcuno non c'è qualcuno tracce guarda le tracce queste tracce di fiammati sono ovviamente sarò stato assumilinato Warren diario grazie per avermi fermato a proposito di scimmiarsi meritavo di essere pestato ma non volevo abbassarmi al suo livello inoltre prima o poi lo farà qualcun altro sei saggio grillo parlante grazie ma non sono esattamente l'eroe di questa città di cui questa città ha bisogno sei stato comunque l'eroe ora abbiamo solo bisogno di costumi a proposito spero tu venga alla festa questa sera così possiamo festeggiare ti faccio sapere promesso d'accordo ora ho bisogno di calmarmi sì ciao allora SUV fienile non si vede niente da dentro che cavolo c'è qua uh scugliettolino posso fare una foto niente non mi posso fare la foto madonna santa auto guarda perfetto meno male che lo dici una farfallina posso fargli la foto? no niente io sto cercando anche le foto raga figuriamoci è lì chi ci abita? è un'altra specie di fienile uccello uccellino foto uccellino sì facciamo le foto noi mentre cerchiamo di investigare sulle cose uccellino di ario sì non c'ho voglia ok qui non c'è nulla qua però c'è una lamiera che si può spostare vai fatti male mi raccomando chloe i found the front door come on vaga vaga crolla tutto non l'aprire c'è qualcosa dentro sicuramente mio dio che angoscia che angoscia il bello che voi nei commenti continuate a dirmi hai chiesto di giornare sui Prescott ma deve esserci qualcosa altro cioè voi continuate raga a dirmi ancora il bello deve ancora venire per vedere come ti prenderai a male bellissimo cos'altro c'è qua sopra c'è tutti trattore un trattore un trattore ok cioè io non so più cosa aspettarmi da questo gioco raga questo è il problema ok non c'è nessuna razza per nessuno di andare qui ma deve essere cassa cerca i Prescott devono essere dei passaggi della nascita mio caro signor Landon il cari avrei Ranch Prescott ok le scrivo in merito all'ingente debito insoluto che ha deciso di ignorare noi Prescott non saremmo degli imprenditori affermati nella buona società ma questo non ci rende meno imprenditori il suo silenzio a nostro avviso costituisce un affronto personale e a nome della famiglia mi impegna a farle saldare il suo debito con un interesse del 10% a una e una lettera di scusa se queste condizioni non verranno soddisfatte entro il 24 luglio nell'anno del signore 1903 stia certo che renderemo la sua vita un inferno vabbè fattore con la cassa lì foto bottone arginito questo me lo tengo per ultimo perché prima voglio girare intorno voglio vedere un po' cosa è successo suolo nel suolo perché mi ha vibrato più che altro mi sono accorta di quello perché mi ha vibrato il joystick non per altro di nuovo vedete madonna raga se mi trovo un cadavere lì sotto madonna ecco appunto appunto gancio allora lì c'era il bottone arugginito io provo a vedere il bottone arrugginito ok però di nuovo porca vacca raga qua sotto c'è qualcosa la guardo dopo però ho paura ho paurissima ho tantissima paura raga balla di fieno balla di fieno no raga di nuovo raga porca vacca no sicuramente c'è qualche ingresso sotterraneo raga ecca là sicuro trovato sì sì c'era un'altra cosa qua dove abbiamo camminato sopra tipo qua però penso che oramai non possiamo fare più nulla perché dice oramai l'abbiamo trovato quindi come apriamo quel lucchetto come apriamo il lucchetto magari mi sto cagando in mano giuro ma no aggancialo aggancialo mettici il gancio cassa ok chloe ah è un buon giorno wow ah guardate cocaina tabacco ok vabbè che dicevi ok chloe cosa collega e ora sicuramente devo cercare nelle balle di fiena ancora non ho mica cercato piattaforma arrampicati chloe chloe can you give me a hand si ammazza si ammazza mo si ammazza vecchio motore ma che cosa sto facendo ma stiamo scherzando ma se stiamo rendendo conto di ciò che stiamo andando a fare tira t'ammazzi ti stai ammazzando ti stai ammazzando madonna io ti dico che t'ammazzi tu non mi dai retta tu non mi dai retta io ti dico che t'ammazzi cosa c'è qua tira guarda cos'è è il suo capo della corda ma che cavolo fai a tirare sta corda ma stai scherzando spero c'è qualcosa qua ehi un gufo che cavolo c'ha fa un gufo qua che bellino vabbè intanto siamo quasi a tutte le foto della fauna vabbè insomma gufo vabbè senti fatti cavoli tuoto ho fatto la foto zitto continua a dormire tira la corda abbassa la leva cronk non puoi farcela non puoi farcela appunto esattamente magari le vengono in mente strane cose lega l'altro a torino vecchio motore guarda no niente arrampicati ma porca vacca vaga ma perché 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 dove corda sì dove la vuoi attaccare good evening doctor who doctor who sorry dove attacco quella corda no raga non è possibile non è possibile allora l'ho capito l'ho capito l'ho capito il problema sta nel dove l'attacco dove cosa come quando oddio mio allora posso fare qualcosa con questo trattorino tipo che l'ho capito l'ho capito mi serve qualcosa mi serve qualcosa ma non so che cosa piattaforma lucchetto cassa cerca vacca nella cassa cosa c'era ah sì giusto marca di quella vacca ci deve essere qualcosa per non scorticarmi tipo il tutto che so dei guanti una qualsiasi cosa cioè per dire non posso adesso perdermi proprio con un ago in un pagliaio cioè idea mi è venuta in mente una cosa io torno indietro aspetta piattaforma arrampicati torna indietro e il trattorino rimane su poi lo faccio cadere spingendolo e tira la corda giusto dico bene o dico giusto dico giustissimo sono sicura che si faccia così allora proviamo così abbiamo fatto la foto sì sì abbiamo fatto la foto vediamo se riesco a tirare indietro il trattorino vieni qua ok proprio quello che volevo corda collega ok ora però devo capire la corda è collegata al lucchetto sì è collegata quindi tira cosa stai facendo ma non devi farlo ora dimmi che non si può più aprire perché ci ho tirato no niente ha funzionato dimmi che ha funzionato così per favore ok perfetto possiamo aprire raga io apro nel prossimo video perché mi sto cagando sotto io spero che questo gioco non diventi tipo uno stile creepy o cose del genere perché io sto sudando freddo ho dovuto accendere la luce non so se è normale come cosa nel prossimo video apriremo il portello e probabilmente daremo una risposta a tutto ciò che stiamo cercando e soprattutto probabilmente troveremo la camera oscura e a parlare così mi vengono ancora più i brividi quindi raga ci vediamo al prossimo video ciao a tutti